Buongiorno a tutti, suonano le campane, sono le 8 e sta piovendo, che sia un segnale, che qualcosa oggi succede, finalmente? Allora, sappiamo tutti che siamo in subbuglio, è una situazione un po' così, perché comunque il mercato fermo e la cessione dopo le dichiarazioni di Ferrero di ieri sera, parlando della cessione, ha ribadito per l'ennesima volta, quindi smontando tutte, che se il gruppo Verdi non arriva all'offerta, lui non cede, va bene, ma lasciamo stare questo, adesso incombe il mercato, incombe il mercato, ieri sera a Sport Italia ha lasciato dichiarazioni che oggi, oggi è il giorno di Defrel, di Simeone e forse anche di Rigoni, perché lui ha detto che arriva Defrel, poi arriva una punta e arriva un esterno, quindi Defrel, Simeone e forse di Rigoni, però subito dopo è uscita una notizia dove stava parlando anche di Cono Prianca, succederà qualcosa oggi? Io me l'auguro, adesso a parte gli schiazzi io me l'auguro, perché veramente non se ne può più, non se ne può più, se è vero che lui dice che la cessione della Samp è diventata una barzelletta, la vera barzelletta è lui, perché ci stiamo riducendo agli ultimi giorni di mercato con una squadra incompleta, servono questi rinforzi, servono tantissimo, io spero che oggi possano arrivare per davvero, vediamo in giornata come va e speriamo bene, piove, speriamo che sia un segno, buona giornata a tutti.